Oggi pomeriggio, prima in quinta commissione e poi successivamente in giunta, presentiamo quello che è il riordino della rete ospedaliera per emergenza Covid. Che cosa significa? Che abbiamo portato un documento che porta l'amplia possibilità a tutte e quattro le ALS di aumentare i posti letto di terapia intensiva e subintensiva. Questi posti sono stati distribuiti in maniera equa su tutto il territorio in base al numero della densità della popolazione distribuita nelle quattro ALS e in base al numero dei ricoverati della pandemia che è avvenuta nella nostra regione. Abbiamo posti importanti e fondamentali sia per qualsiasi tipo di emergenza e anche se si dovesse ripresentare quella dell'emergenza Covid. Questo significa che la nostra regione in base a questa esperienza ha preso atto e quindi porta avanti progetti concreti e costruttivi. In che cosa consistono? La possibilità di adeguare queste strutture con questi posti, quindi con unità sia di medici, infermieri, professioni sanitari che ci lavoreranno, ma soprattutto anche con l'acquisto delle attrezzature adeguate. In questo piano è compreso anche la ristrutturazione di tutti i pronti soccorsi degli ospedali di primo livello della nostra regione. Questo ci tengo a precisarlo perché vuol dire anche qui investimenti nei pronti soccorso e investimento sulle unità lavorative.